Musica Benvenuti al cosiddetto appuntamento con le previsioni meteorologiche. Andiamo a vedere insieme il meteo per la giornata di mercoledì 22 maggio. E cominciamo da Avellino con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e deboli piogge dal pomeriggio. I venti saranno deboli. Ad Ariano nubi sparse con ampie schiarite. A Baiano e Leone cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi con transito di velature dal pomeriggio. A Cervinara nubi sparse e schiarite. A Napoli sereno poco nuvoloso. I venti saranno moderati. Mare poco mosso. A Salerno nubi sparse con ampie schiarite. I venti saranno deboli. Mare poco mosso. A Benevento cieli in prevalenza sereni o poco nuvoloso con transito di velature dal pomeriggio. I venti invece saranno deboli. A Caserta nubi sparse con ampie schiarite. Velature al pomeriggio. I venti saranno deboli. Le temperature. Avellino temperatura massima di 19 gradi. 10 gradi la temperatura minima. A Napoli 19 gradi la temperatura massima. 15 gradi la temperatura minima. A Salerno 20 gradi la temperatura massima. 14 gradi la temperatura minima. A Benevento 23 gradi la temperatura massima. 12 gradi la temperatura minima. E concludiamo con Caserta dove la temperatura massima raggiungerà i 23 gradi. Mentre la minima i 12 gradi. Ed è tutto per oggi. A Benevento 23 gradi la temperatura massima. A Benevento 23 gradi la temperatura massima. A Benevento 24 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 gradi la temperatura massima. Grazie a tutti.